Oggi vorrei proporvi la lettura del libro scritto da Melissa Panarello, Storia dei miei soldi, edizione Bompiani. Melissa Panarello è nota al pubblico per aver scritto diversi anni fa il libro Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire, da cui è stato tratto un film che affrontava il tabù del sesso dal titolo Melissa P. In questo libro si affronta un altro tabù, secondo l'autrice, che è quello del denaro. Sicuramente è un libro interessante, interessante perché ci parla dell'autrice che si mette a nudo, ma nello stesso tempo ci parla di un tema molto attuale, che è quello del denaro, e soprattutto del rapporto che ciascuno di noi può avere con il denaro. La storia ha come protagonista Clara T. Clara T. è l'attrice che ha interpretato il ruolo di Melissa P. nel libro, nel film tratto dal libro, scritto appunto dall'autrice. Quindi l'autrice racconta di questo incontro con questa donna, che vive una situazione di difficoltà nel momento in cui lei la ritrova. Clara T. ha avuto un grande successo, soprattutto un successo economico. ha guadagnato molti soldi con quel film e con tutto quello che è derivato da quel film. Quindi ha vissuto anni di grande agio, ha guadagnato moltissimi soldi, ma nel momento in cui si ritrova, incontra l'autrice del libro da cui è stata tratta la storia, vive una situazione di grande precarietà. Tra le due donne si staura un rapporto, non possiamo definirlo un'amicizia. Sicuramente Clara racconta tutto quello che le è successo, sin dal momento in cui ha girato quel film. Quindi racconta dei suoi amori, racconta dei suoi successi, racconta anche della sua grande disponibilità economica, della quale non si è mai occupata direttamente, nel senso che le veniva versato ogni mese un cospicuo assegno, inizialmente di 50.000 euro, che nel tempo è andato man mano affievolendosi. Ma la gestione vera e propria del denaro lei non l'ha mai avuta, fino a quando non si rende conto che ci sono dei debiti da pagare e che le cose sono cambiate. Quindi tutte le persone, in primis la madre che lei ha sovvenzionato nel corso degli anni, hanno in un certo qual modo contribuito insieme alla sua non gestione del suo denaro a determinare la situazione attuale, cioè quella di una povertà molto importante. Tante sono le cose capitate a Clara e in questo rapporto che si stabilisce tra l'autrice e Clara c'è la narrazione del rapporto che ciascuno di noi, in un certo qual modo, ha o può avere con il denaro. E c'è qualcosa di più, c'è anche una sorta di specchio nel quale l'autrice si confonde o si riflette raccontando di Clara, di questo personaggio complesso, malinconico, che vive una precarietà, ha sempre vissuto una precarietà emotiva, affettiva e anche economica, di non poco conto. Perché leggere questo libro? Perché in un dubbiamente affronta, come dicevamo inizialmente, un tema che è molto attuale, quello del denaro e soprattutto del rapporto che ciascuno può instaurare con il denaro, denaro che ci rappresenta. Infatti l'autrice sostiene che guardare il conto in banca di ciascuno racconta molto, racconta la storia di quell'individuo, ne racconta i pregi, ne racconta anche i difetti, il modo di stare al mondo. E sicuramente tutto questo corrisponde a verità, può rappresentare un modo per interpretare la propria esistenza e anche il mondo circostante attraverso il canale del denaro che risulta essere una prospettiva sicuramente interessante. Un libro gradevole, gradevole nella narrazione, perché ci parla di questa donna Clara T che alterna momenti di vario tipo nella sua esistenza, quindi un libro molto scorrevole, ma soprattutto ha il merito di portare alla ribalta una tematica che è interessante e merita quindi l'attenzione e come diciamo spesso anche le riflessioni che derivano dalla lettura di una storia che porta l'attenzione nel grande pubblico, temi così attuali. Inoltre il libro è stato proposto e anche selezionato per partecipare al Premio Strega 2024. Consigliamo quindi la lettura del libro scritto da Melissa Panarello, Storia dei miei soldi, buon piano edizioni e alla prossima!